Come più volte richiesto dai sindaci della Valfino, finalmente nella mattinata di oggi sono iniziati i primi tamponi a tappeto presso i comuni di Castiglione, Messerremondo, Castilenti e Montefino, tre dei cinque comuni all'interno della zona rossa più colpiti da coronavirus. Questa prima parte dei tamponi riguarderà tutte quelle persone individuate dai medici di base in quanto mostrano sintomi da Covid-19 e sono in isolamento domiciliare, mentre sempre nella giornata di oggi, ma in un'altra postazione, sono state sottoposte al tampone tutte quelle persone che per lavoro sono esposte a rischio. Come vedete dalle immagini, gentilmente concesse dal sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole, in un primo step le persone chiamate a sottoporsi al tampone vengono fatte.